Come avvengono comunque i controlli sulle tasse che si creano a livello immobiliare? Cosa che il genere di controlli fa l'Agenzia dell'Educativa? Allora, i controlli sono di diverso tipo, molto dipende anche dalle direzioni regionali. Ti posso dire che ultimamente il controllo viene fatto in maniera abbastanza importante, il controllo aereo, cioè viene fatta delle visure aeree da cui si vede se ci sono appunto dei piccoli fabbricati, delle capanne, quindi questo viene fatto più che altro per quanto riguarda gli abusi edilizi, però un elemento importante da valutare quando si va a comprare o a vendere casa è naturalmente il prezzo di vendita, è molto importante, ci sono delle tabelle OMI, che sono delle tabelle di valori immobiliari che devono essere prese in considerazione perché tu sai, il mercato immobiliare negli ultimi anni ha avuto un po' di calo di valore, quindi può succedere che magari tante persone possono andare a prendere un immobile che ha un valore magari catastale con una rendita anche datata, perché naturalmente sono rendite di anni fa, ha un certo tipo di valore e poi in verità magari è tutto da ristrutturare oppure ci sono da fare interventi molto importanti e quindi il valore con cui si va a comprare l'immobile è molto più basso. Ecco in questo caso naturalmente l'agenzia delle entrate quando si va a fare l'atto si pagano imposte di registro e quindi queste imposte di registro vanno direttamente, il controllo è automatico dall'agenzia delle entrate, quindi bisogna stare molto attento su queste piccole cose qui. In questo caso è consigliabile avere una perizia giurata di un tecnico che dica che questo immobile ha effettivamente un valore di questo tipo, cioè se io invece di un immobile che ha un valore magari fino a 10 anni fa di 200 mila euro, per una serie di motivi c'è da fare degli importanti interventi e lo vado a comprare a 120 mila euro, devo andare prima a vedere se come valoriomi rientro 120 mila euro, è un valore che rientra all'interno del massimo minimo delle tabelle OMI. Se non rientro lì dentro, io devo avere un tecnico che mi dice che guardate una perizia giurata, questo valore è 120 mila euro perché ci sono importanti interventi da fare e questa perizia mi sarà molto utile soprattutto in caso di controllo da parte della cinzia delle entrate e della cinzia del territorio, perché mi potrà con questa perizia potrò andare a testare che il valore non è un valore fittizio, ma è un valore reale. Quindi la perizia deve avere data antecedente poi alla data del rogito o al momento in cui effettivamente acquisto? Allora è importante che abbia dato antecedente, però diciamo non troppo antecedente, cioè se la perizia è di due anni fa e io dopo due anni vado a fare un acquisto, posso dirti perché mi è successo che rischi di andare in contenzioso con l'agenzia delle entrate, perché loro vogliono comunque una perizia molto vicina, tre mesi, sei mesi massimo, questo è il consiglio che do io. Poi naturalmente in situazioni di questo tipo può succedere che magari uno fa una perizia di un valore, poi in trattativa il valore può anche scendere sotto la perizia, però diciamo la cosa migliore è riuscire a fare magari prima della trattativa una perizia non giurata, che sia però comunque valida ai fini della trattativa. Una volta abbiamo trovato il valore di conclusione dell'affare a questo punto, perizia giurata e atto. Poi come tra l'altro dicevamo anche quando ci siamo sentiti, molto spesso queste controverse con l'agenzia delle entrate finiscano direttamente, non andiamo neanche davanti a Giulio, non andiamo neanche in contenzioso perché sono importi magari non così importanti, quindi riusciamo a risolvere la cosa anche in precontenzioso, cioè con un'autotutela o magari con un accertamento o una visione, però avere una perizia può essere... C'è la classica fase che si dice piuttosto che darle al commercialista che fa le verifiche e gli le dà direttamente a loro che sono contenti, è un po' questo quello che dice. A volte bisogna darle al commercialista. No, immagino, ovviamente diamo un po' dei parametri di riferimento, nel senso che se una bisogno di accertamento oltre i 10 mila euro probabilmente mi conviene fare tutta l'indagine del caso e andare in contenzioso. Sì, sì, no, anche perché ti posso dire che se uno fa l'accertamento con adesione subito alla riduzione di un terzo delle sanzioni, quindi già quello più uno si alleggerisce, poi molto spesso i funzionari dell'agenzia delle entrate sono ben lieti di accogliere un accertamento a un'adesione, anche loro naturalmente hanno i premi sulle pratiche che riescono a incassare, quindi uno potrebbe dire ok, guardiamo se si riesce a scontare un po' di sanzioni, di andare un po' incontro, conviene fare questo, naturalmente dipende dagli importi, se è un accertamento da 20-30 mila euro, allora, c'è un'adesione. Però diciamoci, parliamo chiaramente, uno che fa, che riceve un accertamento da 20-30 mila euro dovrà, probabilmente uno che ha fatto un'operazione strutturata in un modo tale da dover comunque essere a conoscenza di questa possibilità. che l'ordinario del signore che compra l'appartamento che gli altri vendono perché ha ricevuto in eredità e stiamo parlando di valori di differenza, valore catastale 70 mila, valore di acquisto 68 mila, se esce un controllo la sanzione di cosa stiamo parlando? Qualche centinaio di euro? Certo, sì sì sì, è quello il ragionamento per cui molte volte si dice, se vado a prendere tutta la documentazione e a fare tutto uno studio per combattere questa, che reputo ingiusta questa cosa, magari vinco anche, ma il costo della battaglia è stato molto più alto rispetto alla sanzione, insomma questo è un po' quel ragionamento se sbaglio. Certo, sì sì. Certo.